Tutto il film che si condensa in un'immagine. «Aprono queste opere su una serie di interrogativi, proprio sull'idea di cinema, sulla memoria». «Ritornate su quello su cui vi siete fermati di più e scoprerete quante altre cose non l'avevate visto? Perché questa è un'opera in progress, cioè non è che si ferma lì, dice l'ho vista». Mi sono accorto che l'accelerazione di un film creava degli effetti sempre più interessanti mano a mano che arrivava al suo estremo e ho deciso, come una sorta di sfida iperbolica, di andare a sondare veramente l'ultima soglia, che vuol dire far viaggiare un film a una velocità tale che il tutto sia compreso in un unico flash, in un unico fotogramma. Grazie.